La 14esima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Eccellenza dell'anno Leadership Integrated Facilities Management e il premio va a Daxet Facility. Un bel applauso a Daxet Facility per la progettazione di soluzioni innovative, per la gestione di integrata degli ambienti, lo sviluppo sostenibile, torna ancora il tema della sostenibilità e la promozione del benessere delle persone, altra parola chiave, per offrire soluzioni all'avanguardia in ambito Facility Management and Construction. Complimenti al team di Axtet Facility. Un bel applauso ovviamente a tutti voi. Ancora grazie. Diamo un caloroso benvenuto alla dottoressa Maria Teresa Silvestri, CEO di Axtet Facility, azienda che da oltre 40 anni opera nel campo del Facility Management. Dottoressa Silvestri, quali sono i valori e i pilastri su cui si fonda la vostra azienda e cosa vi distingue dai competitor? Bene, buonasera e la ringrazio per la domanda che mi consente di iniziare a parlare delle origini e del DNA di Axtet, azienda italiana a totale controllo familiare, quindi un'azienda con una forte identità valoriale che costituisce il pilastro fondante della nostra realtà e permea la cultura e l'ossidio di tutte le mille persone che operano all'interno. L'attenzione alla persona e all'ambiente, la correttezza e la trasparenza nel fare business e rispetto delle norme sono i nostri valori, che uniti all'imprenditorialità e alla visione strategica del suo fondatore hanno consentito ad Axtet di crescere costantemente, valorizzando le competenze e le pratiche consolidate nel tempo e soprattutto coniugando tradizione e innovazione, affrontando e cogliendo con una elevata velocità di risposta e capacità di adattamento le nuove sfide e le opportunità di mercato, mantenendo costante la flessibilità necessaria. Ecco, cosa ci distingue dai nostri competitor? Una brevissima overview sul contesto competitivo di riferimento. Il settore privato del facility management in Italia è caratterizzato da una forte polarizzazione. Da un lato abbiamo i grandi player internazionali, aziende multinazionali, con una elevata capacità di offrire un'offerta specialistica completa e di rispondere in modo competitivo. Sono tipicamente organizzazioni molto strutturate, che operano con reti in subappalto e che quindi spesso presentano un debole presidio territoriale e una scarsa conoscenza delle specificità del contesto locale. Dall'altra parte abbiamo un'offerta molto frammentata, caratterizzata da tante piccole aziende, con una specializzazione verticale su singole linee di servizio, che hanno sì delle organizzazioni molto snelle, dinamiche, radicate sul territorio, ma che spesso sono limitate nella capacità di garantire un livello qualitativo costante e sempre non affidabili, non sempre affidabili sul piano della compliance. Ecco, AXET si pone idealmente al centro di questi due poli. Quale interlocutore è capace di costruire col cliente una relazione duratura basata sulla fiducia? Penso che sia la fiducia l'elemento che ci contraddistingue. Fiducia che si conquista e si alimenta, fornendo supporto continuo al cliente, grazie ad una organizzazione non sovradimensionata, ma un'organizzazione snella e non mediata, capace di garantire competenza, presenza e vicinanza fisica, con un presidio capillare sul territorio e soprattutto, mi lasci dire, capace di garantire una gestione etica del business, intesa come responsabilità sociale e compliance a 360 gradi. Ultima nota che ci contraddistingue, e qui parlo del nostro core business e dalle altre aziende di facility, è coniugare il facility con la construction. Noi abbiamo al nostro interno una divisione di risorse interne dedicata alla progettazione e alla realizzazione di impianti ad elevata tecnologia per qualsiasi tipo di edificio civile o industriale. Dottoressa Silvestri, come contribuite a generare impatti sociali positivi sostenendo un cambiamento concreto per le persone? Ecco, parto con l'enunciare la nostra brand promise, che miglioriamo insieme il benessere delle persone oggi per un futuro più sostenibile domani. Come manteniamo fede alla nostra promessa? Un impegno concreto per promuovere e sostenere la sostenibilità, intesa come dicevo, come responsabilità sociale, è stata la fondazione da parte di AXET e di Equalis, un'azienda che ha lo scopo di promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone disabili o comunque svantaggiate. Obiettivo questo perseguito attuando programmi di sostegno alle carriere e alla formazione continua di tutte le risorse coinvolte, che vengono seguite affiancate durante il loro percorso grazie al supporto di tutor aziendali e di una psicologa dedicata. Questo ci consente di valorizzare e non mortificare persone che hanno addirittura l'opportunità di conoscere e superare i propri limiti, esprimendosi al meglio. Questo è un obiettivo che perseguiamo con il supporto prima di tutto della progettazione attraverso la nostra divisione construction di spazi inclusivi, quindi attraverso la creazione e la gestione di ambienti accessibili e inclusivi che possano essere in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, quindi persone con disabilità o comunque persone che hanno esigenze diverse. E in secondo luogo investendo in tecnologie al servizio delle persone attraverso l'adozione di strumenti e tool che migliorano l'esperienza di tutti gli utenti che si muovono all'interno degli ambienti che gestiamo, come per esempio app per la gestione degli spazi, strumenti di feedback continuo e monitoraggio ambientale che ci consentono peraltro di lavorare sul miglioramento continuo. E ultimo ma non ultimo impegno concreto per limitare l'impatto delle nostre attività sull'ambiente è rappresentato dalla certificazione Carbon Footprint che abbiamo deciso di conseguire e che ci consente quindi di utilizzare nell'ambito dei servizi di cleaning che offriamo metodologie e strumenti in grado di ridurre le emissioni di CO2. E questo attraverso l'utilizzo di prodotti, macchinari e attrezzature che ci consentono di limitare l'utilizzo di acqua, energia elettrica, plastica e peraltro condividendo e fornendo ai nostri clienti dati oggettivi e documentabili. Azioni concrete queste che realizziamo peraltro con il supporto e il coinvolgimento delle comunità locali, quindi attraverso partnership con le comunità locali siamo in grado di attuare progetti che rispondono a bisogni specifici e contestualmente ci consentono di promuovere un senso di responsabilità collettiva e di appartenenza. E ultimo ma non per importanza l'attuazione di programmi di formazione e sensibilizzazione per tutte le nostre persone sui temi della sostenibilità e dell'ambiente coinvolgendo le nazioni concrete. Vi faccio un esempio poi concludo abbiamo coinvolto tutte le nostre persone due anni fa nella piantumazione di alberi all'interno di una scuola materna di un quartiere di periferia. Questo ha consentito di unire molto le nostre persone, interagire con l'ambiente in cui siamo inseriti e con gli stakeholder di riferimento e non ultimo far felici dei bambini che avranno spero la possibilità di avere un ambiente in cui la loro esperienza possa essere positiva. Ora una domanda sul futuro. Come vede AXET nei prossimi anni e che obiettivi vi ponete nei vari settori di vostra competenza? Ecco alla luce di quanto detto poc'anzi sulle specificità del settore del facility management il nostro obiettivo è quello di porci come partner affidabile di aziende di piccole e medie dimensioni che tipicamente non si rivolgono alle grandi aziende multinazionali che peraltro noi non consideriamo nostri competitor ma che hanno le medesime esigenze delle grandi aziende nella ricerca e nell'individuazione di un interlocutore unico nei servizi di facility autorevole per know-how tecnico e normativo capace di fornire innovazione nei processi e soprattutto aperto a condividere obiettivi di efficientamento degli spazi di lavoro al fine di promuovere il benessere di tutte le persone che si muovono all'interno degli spazi stessi. Questa sera avete ottenuto l'Award delle Fonti che premia e riconosce la vostra posizione di eccellenze e leadership. Cosa rappresenta per voi questo riconoscimento? Sì certo noi innanzitutto al colgo l'occasione per ringraziare il comitato scientifico delle fonti che ha selezionato e ha deciso di premiare la nostra realtà per essersi distinta nel settore del facility management quale connubio innovativo di sostenibilità e di benessere aziendale che sono valori fondanti della nostra cultura del nostro fare business e inoltre il premio è per noi anche un riconoscimento all'eccellenza delle family companies il cui ruolo nel tessuto industriale italiano è storicamente fondamentale. Pensi che le aziende familiari italiane costituono circa 800.000 e costituiscono l'85% del totale delle aziende e il 70% degli occupati. Spesso si pensa che le aziende familiari siano aziende meno avverse al rischio al cambiamento. In realtà sono proprie aziende capaci invece di rispondere velocemente al cambiamento grazie a processi decisionali snelli ed è questo quello che ha consentito anche ad Axet di crescere anche in periodi caratterizzati da profonde trasformazioni e di dimostrare un'elevata resilienza in periodi particolari quale quello pandemico e post pandemico. Inoltre credo che le aziende familiari italiane possano offrire degli interessanti insight sulla salute e sul clima di fiducia del mondo del business. Concludo dedicando questo premio e doveroso a tutte le persone che in Axet ogni giorno con passione e impegno contribuiscono al successo della nostra azienda.